Si riparte, Teletruria offre un fine anno ed una settimana che porta all'Epifania davvero carica di bellissimi film. Weekend al cinema riparte, dicevamo, con un classico dedicato a Maria Antonietta, un film che vede Tyron Power tra i protagonisti. Per la nostra rassegna che segnaliamo essere una delle più complete mai trasmesse sull'attore, che morirà giovane ma che aveva, come è noto, fatto moltissimi film. Si prosegue con film di grande spessore, un classico western, Stringi i denti e vai, e poi ancora Sangue e Arena, la lunga linea grigia ed Incantesimo, che vede in primo piano una straordinaria Kim Novak. Insomma, dei film da non perdere, con orari che quotidianamente nei nostri TG vi comunicheremo. Appuntamenti da non perdere per rimanere sintonizzati, con una piccola chicca, un film dedicato al bullismo nel giorno del primo gennaio. State con noi e Teletruria vi porterà idealmente al cinema.